Quindi praticamente Tuziani iniziò scrivendo questa storia e lui ricalza la stessa cronistoria della storia del Dio Dio Universale, cioè il sogno di Noè, Noè che riceve da Dio l'ordine di salvare l'umanità, riceve da Dio l'ordine che deve salvare lui, i figli, i 300 nipoti, secondo Tuziani, tutti gli animali della terra e poi alla fine si salverà appunto l'umanità che rimane tramite la nuova discendenza di Noè con i figli, i nipoti eccetera. Tutto questo lo fa in dialetto, tutto non lo leggo perché è molto ed è bello, se volete penso che nell'ericola si trova qualche copia. Abbiamo estratto qualche momento di questo diluvio universale, da lui si chiama Vododoro ed inizia così con il sogno di Noè. Noè pensa di salvare non tutti gli animali perché sarebbero troppi secondo lui per farli stare tutti nell'arca. Quindi Noè pensa di fare una selezione all'inizio di animali. Quindi tutta una volta un po' patriarca, li vengavano una bella idea. In una barca, diciamo quell'arca, non è da fare la scia che tocca tocca. Su un rivestito buona marca, un tendo di patente eccetera l'arca. All'unico della scia, un uro, 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 un uro. Iniziano ad arrivare i primi animali. Però Noè ha un ultimo dubbio. Dice ma devo salvare, Dio mi dice, animali maschi e femmine ad ogni specie. Per gli animali grandi si capisce se uno è uomo o uomo, se uno è maschero o femmine. Dice ma quelli di animali piccoli come faccio? E qua fa un bel paragone. Accoccia tutto quanto l'anomale. Il maschio è una femmina, un uro, un uro, un uro. Cane, cavalli e porci. Ma noè male. Nel senso di capisce se sono maschi o femmine. Ma come faccio? Come un attore se la uccella soppondugnano a te pur tu sei dove ci ha rete? No, no dice, dice noè, non lo sace, non lo sace. Ma quando ancora vai, Dio, a te consiglia questo noè. Dice vabbè quando sarai voi, vediamo voi cosa mi consiglia. Insomma senza dice mancamente ci appresenta tutto l'anomale che crea di Dio un impotente. volum, adobanare, acrid, squallum, adobanare, formica, serpente, sorge, bocce, scopringe, maiale, rena, narana, frugle, ricce, di tutti i razzi e tutti i trapicci. Poi ha un altro animale pericoloso per noi, il coniglio. Se non per chi occupa spazio, ma per un altro motivo. Aspetta, aspetta, qui sono i conigli che vedrete tutto l'anomale. Dici, noè, a te non ti pigli, eh? L'esempio che fai tu, tu fai male, ti accucchi la conigli, lo fai finito. Ogni mezz'ora è sempre tale qua. Se tutti quanti fanno come te, beh se c'è a fondo la marca di Noè. Poi lo vedo conigli un po' che, ma vabbè, dice Noè, e me non c'è niente, gli hai scherzato, sta percorso un po' aperto senza te. Da che non nemmuno ci sono stati, c'è una stessa conigli come te. Sapono tutto perché tu sei niente. Poi fa l'amore, io una, due, tre. Fra dei giorni, porta la coniglia, non fa niente che cresce sta famiglia. Piano piano si invilano nell'arca, senza quasi farsi vedere, anche due topi. E Noè nota. Ma avete vinto, l'ha meglio pensato, l'hanno fatta di due sorgiudenti. C'è, c'è, ci sono annunciate sotto le regge di uno gioccialetto. Che mo' sono danno sfrugliate, sbatte le regge come due scendi. E avete vinto, la cola, la cazza. Andate, andate, e ci appena la manuccia della verga. Poi, in barca, tutto quanto c'è voluto. E ora, andate, a tritere, c'è a moca. Sduffa, non vai strutturuta, non di forza, non c'è la moca. E per la fame, a fila, hanno voluto, gli do lo stomaco e gli do lo giocchio. Ma con tanti animali da buttare, che ha avuto tempo di aver mangiare, l'arca è iniziato il suo viaggio. Ogni minuto che passa, la bella barchetta, cagnabella è un po' mente. Dalla cancana va la tarantella, dalla cavotta va la valzoletta. E fa la macarena, la macarena, ma fa questo trotto e tippe, tappa accente. Ma con tutti i besti nel tuo forno, è proprio il forno del mondo. Noi, ma fa lo sciopero la fame, o fare sapere che noi valiamo, o fare vedere a cui tu non fanno, in quanto, in quanto, in quanto non ha sima. La settimana sana non mangiamo, né in e buio, non mangiamo l'ima. Viste che parlava troppo questa vecchia, risponde un'asima. C'era un bello giucci, arraglia, arraglia, ma vaffanculo vecchia, io voglio paglia. Cioè, tu pensi lo fatti dove, io pensi lo fatti a me, non parla con niente, tu parla sempre. Noè, si addormenta e sogna. Noè, in questo momento, sarebbe i tusiani, cioè tusiani stessi che si impersonano in Noè e pensa di sbarcare con l'arca a New York, dove lui, appunto, è sbarcato. A New York, esattamente a Manhattan, dove lui abita. Quindi si addormenta, Noè e sogna. Noè, c'è la dormuta e mo' ci sono. Ma che ci sono? Di essa sbarcata a un'isola che andata a donna a donna, con case stranze e ponte alluminate. E' tutto bello, è bello per l'onna. Do tu sciombo magnifico e durata. Le risponde, una giornata bella fatta. Dice, questa isola, signora, in Manhattan. E mentre cammina con Manhattan, fa un'anafora. Tu sia, un'anafora sono, in questo caso, otto frasi, che iniziano sempre allo stesso modo. Come quando Dante disse, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, come inizia l'inverno della Divina Commedia. Allo stesso modo, Tuziani, Noè, entra in Manhattan e ripete sempre la stessa frase iniziale. E dice, Noè invia una colomba per vedere se ritorni, se ritorni con qualcosa di tangibile, che si può toccare. Quindi Noè prende questa colomba e gli dà la benedizione. E la colomba parte a mia ammiglia. Che buona lei dice, se non proviamo buono, tengo fuori l'acca, non lo spia. Niente del reno, ci sento un sonno su, un sonno tutto il mare. Ciappia la colomba, più via da lontano, sopra questa acqua salata e più anna. E arriviamo alla parte finale. Dopo lo sbarco c'è la preghiera di Noè, che fa addio. Allo signor, l'ultima preghiera, non può mancare prima che in terra scende, l'ombra beniglia della prima sera. Signor Dì, pure non ti ottengne, devi fare da rovanna l'uda vera, con mente, con il cuore, il ritmo impegne, di dici dal nome di tutti grazie per questa nuova vita e il nuovo spazio. Ha salvato una famiglia sola, dal lontano, che è tutta l'ata strutta. A me non manca proprio la parola, ma te ringrazio dal nome di tutti. Figli e nebute, all'uomo che vola, ma tutto è bello qui di campi e va brutto. Ora solo ci pare più sincera, ma in questa vita ci pare più a loro. E ora solo suonare che ci faccio, dice Noè a Dio, pigli per l'eterno e sono contento. Sono pronto a tenere già sciogliere le lecce per camminare solo un firmamento alla grandezza umana e alla saccia. Meglio da te che non ci sta proprio a niente. Pigli per l'eterno a me di giorno, fanno morire con la famiglia di un cuore. E Dio esalisce il desiderio di Noè. E io stai mi chiuso a 9, 9, 1 ora. E ci vogliono i figli e i nebute, come segni da affetto e da amore, li fanno fare uno splendido tavolo. E lo sott'erano a 24 ore, sovra la cima lo mondo ceruto. Uccino all'arca, ferma e benedetta, che chiudodù non deme e non aspetta. E questo è valutù di Tussiara. Grazie.